Presidente Saracchiani, un importante accordo oggi fra Area Science Park e autorità di sistema portuale del nord Adriatico, ma questo è importantissimo perché come ha sottolineato lei ha un riflesso occupazionale nei prossimi anni per Trieste e per tutto il territorio regionale. Sì, concretamente è l'applicazione pratica di quello che stiamo cercando di fare ormai da diverso tempo, cioè di rendere appetibile e anche di permettere l'ingresso dell'innovazione tecnologica e della ricerca all'interno delle imprese. L'area si sta impegnando ormai da tempo a fare questo tipo di attività e oggi con questo protocollo di intesa la concretizziamo in un'area che è assolutamente importante per noi, cioè il porto di Trieste. Quindi grazie alla collaborazione con l'autorità portuale di sistema diventa innovativa una delle più importanti manifatture di questa regione, cioè l'attività portuale, l'attività di logistica che è garantita all'interno del porto di Trieste, diventa innovativa e soprattutto crea posti di lavoro. L'obiettivo è di crearne 6.000 nei prossimi 5-10 anni, quindi un obiettivo ambizioso, questo è vero, ma anche estremamente alla portata, soprattutto se riusciamo a realizzare questo tipo di innovazione. Presidente, un esempio virtuoso anche per collaborazione tra enti locali e Stato? Sì, il progetto in realtà ha in sé tutta la filiera. Parte dalla Commissione europea che lo ha riconosciuto e che lo ha non solo apprezzato ma appoggiato, Commissione europea, Governo italiano attraverso il Ministero degli Affari Esteri, la Regione Friuli Venezia Giulia e poi i due enti fondamentali che sono gli attori protagonisti, cioè Area Science Park e l'autorità portuale di sistema del Mare Adriatico Orientale. Presidente Paoletti, l'innovazione tecnologica e l'autorità portuale, un connubio che darà posti di lavoro grazie all'innovazione tecnologica? Certo, questo è l'obiettivo, come ha avuto modo di dire già il Presidente D'Agostino, è un obiettivo che parte da dati concreti. Noi stiamo già collaborando da tempo con l'autorità portuale e abbiamo già identificato alcune, non una sola, di possibilità concrete di occupazione in questo senso. Occupazione perché per noi industria vuol dire innanzitutto qualificazione tecnologica rispetto dell'ambiente, addirittura fino al punto da utilizzare scarti e problematiche, quelle che sono problematiche dell'inquinamento ambientale in forma di un asset, cioè un vantaggio tecnologico. Quindi sicuramente sì, e aprendo anche al mondo della formazione, formazione, la classica diciamo formazione universitaria, ma anche la formazione tecnica superiore. Quindi è, come si suol dire, ma è il caso di dirlo in questo caso, un'intera filiera che coinvolge industria, ricerca, ricerca applicata e formazione. Presidente, lei ha sottolineato anche l'appoggio della Farnesina? Sì, l'appoggio della Farnesina è chiaro, siamo stati anche coinvolti nelle attività di preparazione dell'attuale processo di allargamento dell'Unione ai cosiddetti Balcani occidentali. La Farnesina ci ha identificato come punto di riferimento per il sistema dell'innovazione. Oggi sviluppo si fa tramite l'innovazione tecnologica. Area, ricordo, ha soltanto 130 dipendenti, ma ha 2600 persone che lavorano con 80 aziende, tutte innovative, di grande significato innovativo. E quindi questo biglietto da visita concreto, che è stato realizzato in 38 anni di attività, oggi è la migliore credibilità per il sistema Trieste, ma tutta la Regione, ed è stato riconosciuto. E queste sono le premesse concrete per sviluppare anche l'attività con il porto. Grazie. Grazie. Grazie.